buongiorno cuori buongiornissimissimo continua il video i video creazioni allora questa seconda parte la dedico alle viole del pensiero che sono quelle che che amo ma veramente io amo tutti i io li adoro per i loro colori per il profumo e per questo creo gioielli con con loro per tenerli vivi vivi nel tempo allora la viola del pensiero anche questa ha dietro di sé una leggenda ma si dice si dice che i cavalieri della tavola rotonda consultassero le viole per sapere il loro destino e la viola del pensiero è anche la chiave cruciale nel sogno di una notte di mezza estate di shakespeare è conosciuta con vari nomi e possiede più colori adesso io vi faccio vedere cosa ho creato sono poche creazioni ma dedicate alla viola allora in questo caso sempre la mia amata viola con vedete qui un non ti scordar di me e i fiorellini del non ti scordar di me poi vorrei farvi notare questo questa chiusura con gli strass e la luminosità di questo girocollo cuori questo è un girocollo interamente fatto con perle di ematite sfaccettate ma le vedete la luminosità sono stupende e secondo me allora queste variano nei colori della della viola ovviamente chiusura e tutto il resto è in acciaio inox poi ho creato anche questo pendente questo pendente con è sempre una catena girocollo questo è zama e questo è acciaio inox guardate la bellezza ho creato anche un paio di orecchini tutto questo è acciaio e questo è argento 925 ecco qui ho voluto creare poi con le viole altre due paia di orecchini allora queste sono le viole gialle guardate le sfumature di colore che hanno e il cuore è in zama è poco bella sono poco belle guardate stupende poi vi voglio mostrare anche quest'altro paio di orecchini quest'anno ho trovato anche in serra le viole arancioni e le trovo magnifiche e questo questo perno in zama è altrettanto altrettanto bello e per finire le viole questa questa la trovo magnifica ho voluto fare un pendente bello grande con questa viola guardate le sfumature il colore questo è sempre un girocollo con perle di mallorca e intrammezzato ci sono delle perle di ematite sfaccettate cioè è magnifico è magnifico al prossimo video tesori e un bacione grande continuate a seguirmi nonostante la mia presenza che va e viene ma mi spiace mai la vita un bacione grandissimo ciao cuori